Buongiorno, io mi chiamo Francesco Talarico, nome d'arte mi chiamano Mastro Giccio, se no non mi conoscono, sono un fabbro di 5 generazioni, 6 generazioni, con passione diciamo che ho realizzato questa piccola, modestissima opera, ma grande per ciò che rappresenta perché l'ulivo è da sempre l'albero della vita, l'albero della pace, l'ambasciatore dell'amicizia quindi e sono straordinariamente contento, felice perché François mi ha dato questo onore, questo onore di averlo realizzato in un paese che io ritengo veramente simbolo della Calabria, con tutta la generosità, l'affetto della gente, la simpatia e quello che più conda è diciamo la disponibilità degli amministratori, il paese mi ha veramente, io non conoscevo Soverea Mannella, solo di nome, ma mi ha colpito, mi ha colpito e resterà in me come un ricordo meraviglioso della mia attività di fabbro che si permette anche di realizzare queste piccole, modeste, grandi opere che poi hanno un significato importante. Vi ringrazio. Grazie. 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 Grazie a tutti